Che cosa ci vedete? Un codesto disegno? Un'orbita ellittica. Bravissima H. Appassionata. Ma che è ciò che non va? Io e tua madre abbiamo cresciuto libera. Diversa. Per voi è giusto? Si è permessa di criticare il duce! Ribelle. Quanto hai preso? Trenta. Mi chiamare per una donna? Anche per un uomo. Una donna che visse il suo sogno. Non ci sono colleghe? Ci sono delle donne, ma lavorano sotto. Malgrado tutto. Non ho mai visto nulla di così bella. Margherita delle Stelle. Prossimamente. Rai 1